ciao ragazzi sono stato contattato dal presidente dell'inter club di Siena con cui mi rapporto spesso dove praticamente mi mi ha contattato perché è successa una cosa grave ieri sera allo stadio San Silo di Milano per chi è scomparsa una persona eh come potrete ben leggere alla slide che ho messo sopra impressione non si trova da ieri sera allo stadio Cristian Prosperi nato nel millenovecentosettanta e alto metro e settantatré di Rapolano Terme che è un paese è un paese vicino a Siena socio dell'inter club Rapolano Terme è scomparso alle ore ventitré dal piazzale dello stadio di San Silo chiunque abbia notizia e avete i numeri per per poter contattare qualora qualcuno di voi l'avesse visto o avesse sentito qualcosa mi raccomando ragazzi contattate questi numeri perché Cristian Prosperi è scomparso non lo trovano più non risponde al telefono e ripeto in maniera molto urgente mi ha contattato l'inter club di Siena io nel mio piccolo eh passo questo questo video dove eh dove diciamo bisogna dare una mano per capire se qualcuno l'avesse visto o avesse sentito qualcosa chiunque di voi eh sapesse qualcosa con tanti numeri sopra impressione quindi io spero che Cristian stia bene spero che eh che sia tutto a posto insomma ragazzi mi raccomando adoperatevi per dare una mano anche alla famiglia Lerissian perché non non lo trovano più da ieri sera vi ringrazio ragazzi per l'aiuto confido in voi confido in chi era a San Silo poi magari sentirò anche un po' di mie amicizie che vanno spesso a San Silo magari che a stavolta possono sentire altre persone dateci una mano insomma ecco ciao ragazzi